Ah cos'è? Ma che ti hai messo in testa? Non ho capito. Vedi che ora ti riscate? Sì, ma... Massimo non sono stato deciso fino adesso, assolutamente. Non me ne prego un p***o che sono testato, bello mio, per me è lavoro. Vedi che muovete, eh? Che stasera tocchi di tua, bello mio. Ma che ti hai messo in testa? Fammi un po' capire che c***o ti hai messo in testa? Nessuna cosa, Massimo. Muovete, vai lì a cerchietto e portameli perché veramente ti sprufino per terra fino a chi non ti consumo. A me entro le otto devi sistemare, chiama Edoardo, chiama, si pare, alle otto vieni, mi chiami, vediamo dove sto e mi sistemi, se non mi chiami, vieni e buschi. Capito? Allora, ma se io per le otto, già me l'hanno dato la conferma, non ce la fanno, e domani... Sono, problemi vuoi. Ma dai otto a mezzogiorno a domani fammi... No, no, sono c***o i miei se mi chiami o no. Non mi debiti, i problemi. Non so. A me non me li crea nessuno i problemi. Tu come ti permetti di crearmi i problemi? Vabbè, intanto io anticipo, signore. Io, cortosio mio, chiedo una garanzia. Quale? Oltre ad un assegno, pure a una... qualche cosa di prezioso, non so, però... io lo ridiamo. Parliamo un attimo. Allora, se io per ditte, ne faccio un esempio, non capisca mai. Lei domani mattina mi scappa, io con chi mi vado a vedere. Non me la posso prendere con una donna, perché donna, non sei tu. Se caso mai, posso parlare. Tu marito non lo sa, quindi. No. Eh, gli hai dato la carta... E qual è il numero del PIN? E' il numero del PIN, pure. E' arrivata a mezzanotte, che me sappia, per c***o, eh. E' il numero del PIN? Che c'entra il PIN? Il PIN della carta. Ah, così va a vedere se hanno fatto il bonifico. Perché quella è la carta di chi è, scusa? E' intuscata a me la carta. Ma tu chi sei? Fammi capire. Eh... Perché il bonifico l'hanno fatto a te? Eh, perché c'avevo la portera, l'unica disponibile, abbiamo fatto così. Allora, ma senti un po', ma dico, ma tu te ne rendi conto dei murci che stai a dire? No, 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 io non so di niente. Anche... No! Anche oddio... Chi t'ha fatto il bonifico te? Eh... Di quanto t'ha fatto? Settimila e cinquecento. No! 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 No!